Ha rinunciato a essere esaminato dalle parti Pietro Costa, uno dei due ex carabinieri accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse statunitensi. Costa, imputato davanti al Tribunale di Firenze per presunti abusi verso una delle due giovani, questa mattina non si è presentato in aula e i suoi legali hanno annunciato la sua rinuncia a essere ascoltato. I giudici hanno acquisito agli atti del processo l'interrogatorio reso dall'ex militare al pubblico ministero in fase di indagine. Secondo quanto emerso non sarebbe escluso che l'ex carabiniere possa rilasciare dichiarazioni spontanee nel corso delle prossime udienze.